Colla, come ho avuto modo di dire ieri, è stato un assessore straordinario, è un punto di riferimento in tutta la regione Emilia-Romagna per il mondo produttivo, ma non solo, della ricerca, la ricerca applicata alla crescita, è una persona con cui abbiamo lavorato tantissimo insieme, quindi io immagino che il suo lavoro, il suo impegno, soprattutto il patto per il lavoro e per il clima, devono essere parte del futuro delle Emilia-Romagna, quindi quando verrà scelto il Presidente farà il suo lavoro, però nessuno può mettere in discussione il lavoro straordinario che Vincenzo Colla ha fatto in questi 5 anni per l'Emilia-Romagna.